come non investire in che senso visto che tutti parlano tutti spiegano come investire nel modo migliore possibile sui mercati anch'io ti mostro qua sul canale come investire ogni tanto bisogna però fermarsi e capire il come non investire ed ecco perché ho deciso di fare questo video qui perché sono sicuro che ti aiuterà molto di più capire come non investire che farti un elenco di tutte le cose che devi fare per investire correttamente quindi partiamo subito gli investimenti non sono un gioco lo so che sembra scontata come cosa ma in realtà sento la necessità di dirlo perché perché alla luce dei commenti che ricevo alla luce dei messaggi in privato delle tante persone che mi scrivono chiedendomi o spiegandomi il modo in cui hanno investito in cui stanno investendo sento necessario fare questo video qui perché è molto comune commettere gli errori che ti sto per mostrare all'interno di questo video il primo grande errore nel mondo degli investimenti è quello di investire per sentito dire o investire perché ho visto i prezzi che salgono o perché ho visto una manciata di pischelli che stanno facendo soldi sui social che ti mostrano lamborghini affittate e cavolate di questo tipo non si investe perché ho visto che quello ha fatto soldi con le cripto allora investo anch'io perché così faccio soldi anch'io non si investe perché ho visto il prezzo che sta esplodendo allora entro perché ho paura che perderò il treno qui andrà tutto to the moon e io rimarrò fuori non si investe perché mio cugino ha detto che io ho fatto trading son bravissimo son fortissimo ti faccio vedere qui lì fai così fai cosa non si investe per queste ragioni si investe perché si ha comprensione di che cosa significhi investire e alla fine di questo video avrai chiarissimo in mente che cosa significa investire quindi si investe perché ho chiarezza ho comprensione ho conoscenza e ho competenza questa è una parola importantissima che devi segnare perché sugli investimenti non si scherza quindi il gioco degli investimenti non è un gioco ma è un qualcosa che richiede estrema competenza bisogna capire e comprendere ciò che si sta facendo quindi primo grande errore posizionarsi sul mercato senza sapere bene il perché e come si combatte questo errore semplicemente si combatte questo errore facendo l'opposto quindi comprendendo il perché mi voglio posizionare sul mercato su un determinato mercato e a quel punto anche il come farlo e qui si arriva all'errore numero 2 credere di poter fare soldi velocemente investendo gli investimenti non sono una rapina in banca gli investimenti non sono una dannatissima rapina in banca se vuoi soldi veloci vai in banca a rapinarla se vuoi invece costruire ricchezza nel tempo nel tempo allora ti posizioni sugli investimenti è molto molto importante comprendere questo perché ci evita un sacco di errori anche se non sembra ma comprendere che gli investimenti sono un gioco di lungo termine ci permette di far che cosa ci permette di evitare di buttarci a capofitto su qualsiasi stronzata di shitcoin che esce convinti di fare il 2000 per e vivere di rendita per il resto della nostra vita cose che succedono sì ma si chiama botta di culo si chiama fortuna è un'altra cosa la fortuna non è una buona strategia quindi lasciamo da parte tutte queste robe qui il biglietto della lotteria e concentriamoci invece su che cosa è l'investimento investire significa posizionarsi negli anni con comprensione del mercato e competenza su ciò che si sta facendo non significa avere il biglietto della lotteria per guadagnare subito e vivere di rendita se stai lavorando continui a lavorare se vuoi più soldi continua a lavorare lavora se vuoi soldi vai a lavorare non vai a investire vai a investire quando hai dei dindi in tasca quando hai dei soldi in tasca quando hai un po di soldi in tasca che non bisogna per forza essere milionari per investire si può investire anche con poco qua sul canale ho mostrato addirittura come investire in azione a partire da un euro cioè si può fare anche con poco però bisogna andare a equilibrare quelle che sono le aspettative rispetto a ciò che noi stiamo inserendo all'interno del comparto investimento e qua ci andiamo a collegare al terzo punto cioè quello di credere di poter vivere di investimenti vivere di investimenti lo potrai fare quando avrai magari un patrimonio bello grosso investito che ti porta dei dividendi significativi che ti porta di conseguenza di cui vivere non puoi vivere di investimenti se hai poco cioè se tu parti con 100 euro cagati da investire ogni mese non puoi aspettarti di fare mille duemila euro al mese no non va bene questa roba qui se tu parti con questa prospettiva rischi solo di farti del male perché ti esporrai a roba ultra ad alto rischio e perderai tutto perché funziona così andrà a beccarti tutte le scan possibili e immaginabili andrà a beccarti tutti quei fanta guru del trading che fanno 2000 per cento al mese via fighissimo guadagno guadagno un sacco e bla 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 andrà a beccarti tutta sta roba qui che indovina un po non è investimento ti stanno prendendo per il culo quindi mettiti sulla retta via comprendi che non puoi vivere di investimenti a meno che non ci investi sopra milioni non puoi vivere di investimenti così come non puoi fare soldi veloci con gli investimenti è un gioco di pazienza è vero che sulle altcoin puoi speculare a ridosso dell'alving tutto quello che vuoi sì e magari la finestra temporale sono sei mesi un anno quindi relativamente short term ma quello che io faccio non lo baso su quel sei mesi un anno lo baso su un portafoglio che sto costruendo negli anni il mio piano di investimento è un piano ultra ventennale stiamo parlando di questo è questo che devi andare a costruire devi costruire un portafoglio che duri e che vada avanti negli anni ci vogliono anni aumenti il tuo patrimonio aumenti la tua ricchezza nel tempo con pazienza non nell'immediato non è una roba che butti compro 10 euro di questo arriva un milione e sono ricco non è questo non è assolutamente questo devi comprendere che cosa stai facendo e abbiamo detto non si può vivere di investimenti ma non si può neanche investire con l'idea di costruire delle entrate extra e questo è un altro errore se vuoi creare delle entrate extra trovate un lavoro extra investire non è un lavoro extra investire un qualcosa che richiede ancora una volta tempo pazienza e anni non è che oggi mi compro l'SP 500 a 1000 e domani arriva a 50.000 ma domani letteralmente tra un mese arriva a 50.000 prelevo e via è fighissimo son fortissimo non è questo quella si chiama scommessa ed è un altro sport se vuoi scommettere va a scommettere puoi scommettere sulle partite puoi scommettere su quello che vuoi ma non sugli investimenti sugli investimenti si investe e investire lo si fa negli anni ti sei mai chiesto perché gli investitori grossi hanno tutti i capelli bianchi ecco ci sarà un cazzo di motivo non è che è la nuova moda se vuoi essere investitore fatti i capelli bianchi no sono tutti vecchi perché hanno costruito la ricchezza nel tempo se vuoi fare soldi veloci allora trovati delle alternative trovati dei secondi lavori trovati degli investimenti tra virgolette che non siano gli investimenti sui mercati ma su attività cioè investi sulla tua carriera investi per migliorare te stesso se sei un dipendente quindi vendere le tue abilità le tue skill ad uno stipendio maggiore oppure investi sul creare una tua attività c'è il mio miglior ritorno sull'investimento non ce l'ho dal mercato finanziario ce l'ho dalle mie attività su cui lavoro dove magari faccio una pubblicità su google e trovo un cliente con 30 euro ma quel cliente mi vale poi 3000 4000 5000 euro quindi stiamo parlando di questo questo è un per 10 ma un per 10 sui mercati finanziari quando lo fai allora se vuoi guadagnare indovina un po i più ricchi se vai su forbes sono tutti imprenditori allora vai e inizia a costruirti impresa inizia a sviluppare le abilità che servono per vendere le tue appunto abilità e fare quello che non vuol dire che devi per forza diventare imprenditore se vuoi 10k al mese e se un programmatore inizia a imparare machine learning inizia a imparare che ne so l'intelligenza artificiale sviluppo blockchain queste robe qui vai a lavorare come specialista in questo ambito e i tuoi 10.000 anche 100.000 te li danno pure al mese vai a lavorare per google e vedrai che avrai una buona somma da parte però ci devi arrivare quindi lavorare su un'altra cosa non perdere tempo in devo investire su questa shitcoin così divento milionario no investi tempo sul migliorare tu e avere delle abilità uniche che puoi andare a vendere sul mercato è così che puoi fare soldi creare delle entrate extra e creare anzi anche delle entrate in realtà primarie non extra perché poi magari diventano entrate primarie però costruire un qualcosa al di là degli investimenti ricordiamoci che gli investimenti non sono un più sono un per cosa significa significa che tutte le entrate extra le vado a creare sono tanti più quindi ho il mio stipendio o questo o quell'altro e sono tanti più di questi una parte la vado una percentuale ma anche solo un 10 per cento di quello che mi entra lo vado a investire sul mercato bitcoin azionario etf metalli risorse minerarie di qualsiasi tipo petrol quello che ti pare materie prime quello che vuoi vai a metterlo lì e poi a quel punto negli anni farà su giù su giù a volte se in positivo a volte se negativo ma nel tempo probabilmente andrà a salire se hai fatto bene i compiti a casa quindi se hai usato la tua competenza acquisita per investire a quel punto cosa succede succede che quei tanti più che ti portano liquidità che tu vai a mettere dentro la scatola col per quindi la scatola degli investimenti andranno a moltiplicarsi negli anni crescendo esponenzialmente ma è una cosa parallela non è lascio tutto e inizio solo a investire no non è questo a meno che tu non abbia magari già un milione due milioni che puoi mettere lì negli investimenti allora lì un altro paio di maniche però questo è per dirti che cosa che investire è un qualcosa che si fa nel tempo un po per volta investi e raggiungi i tuoi obiettivi ma negli anni con pazienza e con competenza conoscenza di ciò che si sta facendo altra cosa credere di poter prevedere il mercato anche qui sembra banale siamo tutti che ci ripetiamo il mantra nessuno può prevedere il mercato ma poi puntualmente mi scrivono ho comprato qui perché credo che andrà lì ho comprato qui perché secondo me andrà lì no guarda che il ciclo è così 2025 bull fine no nessuno può saperlo non sai neanche se vai a dormire il giorno dopo ti svegli cosa vuoi prevedere il mercato cosa vuoi prevedere il mercato analizza i dati analizza l'andamento storico si può essere utile per farti capire più che altro come sta andando una determinata cosa ma il come sta andando non significa che continuerà ad andare così ok analizzare ok comprendere ma i mercati possono salire e scendere in determinate condizioni quindi quando entra per esempio liquidità è più facile che salgano quando esce liquidità è più facile che cadano però cercare questo significa cercare di fare timing sul mercato che cos'è il timing sul mercato significa cercare di batterlo cercare di comprare al più basso possibile vendere al più alto possibile comprare il bottom e vendere il top ma nessuno lo fa e diffida da chi ti dice come farlo che ti insegna come farlo nessuno lo fa se vuoi vincere con gli investimenti devi imparare a non correre uno sprint ma una maratona è questo che ti porta a vincere negli anni in cui sto investendo e di errori ne ho fatti veramente tantissimi e ne continuerò a fare perché funziona così cioè bisogna mettersi con umiltà capendo che si continuerà a sbagliare è normale ma bisogna farlo in modo intelligente cioè capire da quegli errori quello che ho capito è che quando si investe il 99 per cento delle persone è pronto e dai il massimo corre come un pazzo e fa uno sprint incredibile superandoti e tu rimani indietro tu che ti sei posizionato invece piano col tuo piano d'accumulo rimani drasticamente indietro ma c'è un problema tutte queste persone si sono allenate per fare uno sprint ma gli investimenti sono una maratona quindi loro si fanno i loro primi 100 metri 200 metri fanno un 10 per fanno il 50 per diventano avidi perché il mercato continuerà a salire e rimangono intrappolati i prezzi crollano e rimangono intrappolati e mentre i prezzi crollano loro vendono in perdita a chi a te a te che ti stai posizionando nel tempo con pazienza e capendo che stai correndo una maratona una maratona che inizia dal giorno 1 in cui investi al giorno x in cui smetterai di investire perché sei sdraiato sotto un po di metri di terra questo è è questo che bisogna mettersi in testa bisogna comprendere questa cosa qui è fondamentale lascia che gli altri corrano lascia che gli altri facciano vedere ostentino o guardo ho fatto mille per ho fatto qui ho fatto lì lasciali fare quello non è l'investimento l'investimento è silenzioso è un costruire nel tempo è un piantare il seme e attendere che nasca la quercia quello devi fare non stare lì a perdere tempo a chiacchierare a dire ostentare guarda ho fatto qua ho fatto là io in silenzio costruisco il mio patrimonio è questo che c'è da fare lavorando sodo e portando in quella scatola in quel moltiplicatore ciò che si riesce a portare e comprendendo di nuovo che è un gioco di pazienza è un gioco a lungo termine lascia che gli altri corrano lasciali correre lasciali andare veloci tu vai graduale con strategia con competenza e capacità e comprensione di quello che stai facendo stai correndo una maratona lasciali correre lasciali andare a un certo punto cadranno a terra stramazzati liquidati e tu andrei avanti continuerai sulla tua strada imperterrito e a questo punto si va ad un altro elemento collegato a questo cioè il credere di essere il migliore ricordati che non importa quanto investirei o per quanto tempo non sarai mai il migliore ci sarà sempre qualcuno più bravo di te ci sarà sempre qualcuno meno bravo di te e ricordati che investire non è una competizione con gli altri non devi combattere e battere sconfiggere il mercato non devi battere il tuo vicino di casa non devi far vedere ai tuoi parenti che sei il più bravo a investire no è un gioco con te stesso tu stai utilizzando gli investimenti perché hai capito che il denaro è una stronzata è un qualcosa che si svaluta negli anni e tu vuoi proteggere i sacrifici che hai fatto per racimolare quel denaro nel tempo quindi tu devi concentrarti a giocare la partita con te stesso il resto intorno e nulla non esiste sei tu con te stesso con i tuoi obiettivi la tua strategia o le tue strategie testa bassa e pedali non sarai mai il migliore inutile che stai lì e voglio essere il boss degli investimenti il re degli investimenti nessuno è re degli investimenti l'unico vero re degli investimenti è colui che si mette lì e comprende che non sarà mai re degli investimenti comprende di sapere di non sapere come diceva qualcuno più saggio di me e comprende che è un percorso di lungo termine in cui si impara costantemente in cui si sbaglia costantemente questo è ciò che fa realmente la differenza e qui andiamo a collegarci a un altro punto concentrarsi sull'analisi tecnica sull'incrocio delle medi l'indicatore così l'indicatore cosa piuttosto che sul macro quindi comprendere come funziona l'economia in determinate condizioni comprendere in macro su che cosa stiamo investendo non perché l'ho sentito dire non perché ho visto che c'è l'incrocio la media allora devo andare lì comprendere che gli indicatori sono delle conferme di una strategia costruita a priori non sono la strategia e questo è molto importante e comprendere che la strategia è basata su gestione del rischio gestione del portafoglio gestione emotiva sono tre cose che devi fare e devi inserire nella tua strategia una gestione del portafoglio quindi come gestisci il denaro che è a disposizione una gestione del rischio come rischi quel denaro che è a disposizione in che modo è una gestione emotiva cioè come reagisci ai mercati in determinate condizioni questi tre elementi sono quelli che creano poi la strategia se tu lavori su questi tre elementi crei la tua strategia su questa roba qua poi vai a cercare delle conferme con l'analisi tecnica con quello che vuoi obiettivamente ti basta fare un piano d'accumulo senza stare neanche a guardare i grafici su un asset che secondo te potenzialmente può performare ma non secondo te perché così è c'è la sfida e hai detto ma hai lanciato i dadi sì è uscito 12 boh ci investo no non funziona così e perché hai fatto uno studio e perché hai analizzato quella determinata azienda quel determinato etf cioè quindi cosa c'è dentro quell'etf quella cripto qualsiasi cosa ma tu hai fatto uno studio hai studiato hai analizzato hai compreso che non vuol dire solo guardare come è andato in passato ma guardare che cosa fa nel presente come sviluppa i bilanci eventualmente quindi tutto ciò che serve per comprendere come sta andando come è andata e provare a pensare a come andrà in base a quello che tu riesci a leggere tra le righe sul mercato a questo punto ti posizioni e anche posizionarsi con un semplice piano d'accumulo senza neanche guardare il grafico statisticamente ti porta a avere risultati migliori di chi va lì e si cerca tutti gli incroci le bande di bollinger e tutte ste cazzate qua che per carità non sono cazzate ma sono un'altra cosa cioè lasciale lì non buttarti su queste robe qui non rincoglionirti a vedere ste cose qui il focus non va messo là il focus va messo a monte sulla strategia che vai a creare e sul come la porti in scena e infine credere di poter diventare milionari dall'oggi al domani comprando una stupidissima shit coin no non succede non va bene non puoi credere diventare milionari con gli investimenti l'abbiamo già detto semplicemente buttando sopra due spicci convinto di fare il to the moon e via fighissimo divento ricco sto su un'isola col mio cocktail e l'ombrellino non funziona così io non sono su un'isola con un cocktail un ombrellino io sono costantemente sul mercato a capire ad analizzare a vedere come va a trovare nuove opportunità è un lavoro vero e proprio ma un lavoro vero e proprio da non confondere con il lavoro tradizionale cioè le mie entrate arrivano dalle mie attività da lì le vado a mettere negli investimenti e certo si moltiplicano certo sto facendo tantissimi soldi con gli investimenti però non è lì il mio focus il mio focus è sul produrre più entrate cioè più entrate entrano maggiore quantità posso portare di denaro sugli investimenti e di conseguenza più esponenzialmente più velocemente crescerà il mio portafoglio perché avere più soldi da dedicare agli investimenti ti apre a più scenari ti apre a più possibilità in termini quantitativi in termini qualitativi ecco cosa faccio cioè studio i mercati analizzo per diventare sempre migliore sempre migliore perché man mano che porto liquidità quindi man mano che porto soldi di qua devo avere competenze per gestirli rischiando sbagliando e apprendendo vado a costruire negli anni il mio patrimonio ma non sono qui cioè non è che ho chiuso tutto il resto non ho più entrate sto focalizzato lì sull'investimento e sto lì così a guardarli tipo tipo non lo so un pazzo psicotico sto lì così a guardarli e dire ok crescono 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 no scende 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 cresce 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 no scende 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 no sono lì li accantono punto analizzo ogni tot tempo ma ogni tot tempo significa ogni tot mesi cioè non fosse per il canale penso che i miei investimenti li guarderei non dico una volta all'anno ma quasi come stanno andando perché una volta che tu crei una strategia e ti posizioni long term non vai lì ogni cazzo di minuto a guardare come sta andando il grafico di bitcoin o di qualsiasi altra cosa hai una strategia long term punto e sai che non diventerai milionario con quella roba lì almeno almeno non esclusivamente con quella roba lì perché puoi diventare milionario con gli investimenti puoi fare un milione con gli investimenti due milioni dieci milioni certo che puoi farlo ma dipende sempre dall'input che porti e il tempo che è passato perché magari metto 100k negli investimenti e tra 50 anni sono un milione va bene figo ma sono passati 50 anni sono diventato milionario grazie agli investimenti mi sentato milionario perché ho preso liquidità l'ho portato ho avuto quei 100k tanto per iniziare da portare là e poi da là negli anni è andata bene ma ho avuto la competenza di non tirar via soldi ho avuto la conoscenza ho avuto la competenza di scegliere dove andare a investire quindi non è divento milionario solo esclusivamente con gli investimenti comprendiamo questo passaggio quindi gli investimenti per riassumere sono un qualcosa di estremamente interessante potente ma vanno affrontati con competenza lascia per tutti quelli che ti stanno a millantare a raccontare stronzate qua su youtube concentrati su te stesso e sulla pratica io non ti posso dire a te come devi investire ti posso dire come investo io ma che è basato sulle mie entrate che probabilmente non saranno le tue è basato sulla mia esperienza che probabilmente non sarà uguale alla tua è basato sulla mia gestione del rischio sulla mia personalità che probabilmente non sarà la tua se vuoi investire devi costruire la strategia negli anni facendo facendo e facendo e perdendo 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 impari impari acquisisce esperienza e man mano migliori il tiro non puoi beccare il centro senza provare a fare un cazzo di tiro fa un tiro guardi che sbagliato sei troppo a destra ok riaggiusto il tiro ritiro o ora sono troppo a sinistra ok mi riadrizzo e vai avanti così vai avanti così non puoi partire col presupposto che tu beccherai il primo colpo il centro diventerai milionario e tutte le belle cose che ci siamo detti fino adesso prendi gli investimenti ti prego per un qualcosa di serio che si costruisce negli anni non stare a dirmi sono un investitore investo a breve termine un anno non sei un investitore sei uno speculatore sei uno scommettitore di classe ma ho sempre uno scommettitore sei se vuoi chiamarti investitore allora tieni una cazzo di azione etf o qualsiasi cosa sia per almeno 5 10 anni in portafoglio e ora lì puoi dirmi che ti sei posizionato come investitore e non come scommettitore però fallo con estrema estrema competenza ed estrema capacità mi raccomando non lanciarti così a caso a capofitto sui mercati perché tanto figo io vado mi lancio faccio no fallo con competenza e con diligenza ho parlato e parlo ancora qui sul canale un sacco di come mi posiziono investimenti in qualsiasi ambito ho fatto un video che ti lascio qua sotto se vuoi vedertelo se te lo sei perso in cui ho costruito in 30 minuti un portafoglio relativamente equilibrato che si può iniziare a portare in scena anche con 100 200 euro non avere la presunzione di crearti il portafoglio subito da 200 mila euro da 10 mila euro 20 mila euro quello che è con tutti i tuoi soldi no vai con piano piano negli anni col tempo e costruisci il tuo portafoglio l'ho fatto per le azioni l'ho fatto per le cripto ti lascio tutti i due video qua sotto così te li puoi guardare c'è veramente tutto quello che vuoi è pieno di modi per investire anche partendo con poco però ricordiamoci che l'investimento va preso long term con una cognizione di causa cioè in modo sensato strategico ti lascio anche nella descrizione tutti i link vari a eventuali video che puoi andare a guardare che ti possono tornare utili per avere un seguito a questo video qui ti lascio anche il link dei broker che utilizzo che ho utilizzato e che se ti può interessare puoi utilizzare anche tu perché permettono di partire da pochissimo però ancora una volta esponiti solo quando sai bene che cosa stai per fare iscriviti al canale se ti è piaciuto questo video per rimanere aggiornato e vedere tanti altri video come questo condividilo con i tuoi amici i parenti che stanno investendo e a cui vuoi dare un contributo vuoi dare una mano ad evitare questi errori qua che sono molto più comuni di quello che si pensa ti ringrazio per sei stato qui con me un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video